Viaggia a Vele Spiegate, il suo tra l'altro il gol del 2-0 a Lentella, quello che ha chiuso la sfida con la squadra Ligure, Renzetti Fa il vuoto Renzetti, velocissimo Garritano, lo scambio con Renzetti, Renzetti! Alla fine un proiettile in area di rigore, da lì è arrivato il pallone dell'1-0 con il gol di Diuric Da lì un'altra iniziativa pericolosa C'è una prateria, ancora Renzetti, impressionante Ne approfitta il Cesena, Renzetti sull'auto di sinistra, la mette dietro Garritano, va a sbattere su Manfrina Poi Rodriguez si gira, cerca il cucchiaio, sorride, lo manda col paese De Feudis Che era sicuramente sistemato meglio per provare La palla sul destro che tra l'altro è il suo piede preferito di andare alla conclusione crociata Invece è andato in mezzo dove ha trovato un muro rosso Attacca Renzetti, cross, basso, la conclusione, il gol, ancora di Garritano La doppietta di Luca Garritano, ancora cross di Renzetti Diuric ha ripreso posto all'interno dell'area di rigore Renzetti Cross di Renzetti Diuric, splendido gol del Cesena con Diuric Che porta in vantaggio la squadra romagnola Milan-Diuric al tredicesimo Occhio a centrocampo, al movimento a sinistra di Renzetti Che sale per il cross, pronto di sinistro L'uscita di Iacobucci, il colpo di testa di Giuric E la palla sul fondo Milan-Diuric inquadrato dalla... Molina, Ciano, Ragusa, ingresso in aria, Ragusa le finte Poi il tocco per Renzetti Il cross, un secondo pallo di testa a Perico Ottima azione del Cesena Ottima occasione per Gabriele Perico Pallone alto sulla traversa Ma di poco